La Delellis era intenta a raccontare l'episodio nel quale litigava con Serena Grandi all'interno della trasmissione pomeridiana condotta da Barbara D'Urso, pomeriggio 5. Nel commentare tale episodio, Giulia si è lasciata andare a qualche parola di troppo. La ragazza ha infatti detto, dovevamo stare contro a prescindere, eravamo in uno di quei programmi in cui uno deve stare da una parte e uno dall'altra. Queste parole hanno lasciato un po' tutti senza fiato dal momento che, così dicendo, ha messo in discussione la veridicità della trasmissione condotta da Barbara D'Urso. Tali parole inoltre hanno stupito, data l'enorme simpatia che la D'Urso ha sempre mostrato di avere nei confronti della Delellis, ospitandola spesso nella sua trasmissione. Al momento la conduttrice di pomeriggio 5, Domenica Live, non ha commentato la vicenda, ma attendiamo con trevidazione una sua risposta. Per restare aggiornato sul gossip, iscriviti al nostro canale YouTube e seguici sulla nostra pagina Facebook.